Ciao e benvenuto su Mondo Cane! In questo nuovo video scopriremo i pro e i contro del possedere una razza come quella del setter inglese, così da poter valutare bene prima di adottarne uno. Prima di iniziare, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero gratis! Se vuoi saperne di più su questa razza, sul nostro canale è già uscito un video chiamato setter inglese Cosa Sapere, che ti invitiamo a recuperare. Se non sai come gestire alcuni comportamenti del tuo cane, o vuoi capire come prepararti al meglio per l'arrivo di un uovo peloso in famiglia, tramite il link che trovi in descrizione potrai parlare con Sara, il nostro istruttore cinofilo di fiducia, che ti guiderà verso la soluzione migliore per te e per il tuo amico a quattro zampe. Oggi parleremo dei pro e dei contro di questa razza, quindi iniziamo subito con i pro! Numero 1 Ha un olfatto eccezionale Il setter inglese ha un olfatto straordinariamente acuto ed è in grado di seguire una traccia per svariate centinaia di metri. Questa caratteristica lo ha reso molto famoso ed apprezzato e quindi adatto a tantissime attività come la caccia, la ricerca e il salvataggio. Numero 2 È un eccellente cane da compagnia Questo cane è noto per la sua natura socievole e amichevole, ama passare del tempo con la sua famiglia e soprattutto è un cane molto giocoso e divertente. Questa caratteristica lo rende un compagno di giochi ideale per i bambini. Numero 3 È versatile e molto intelligente Il setter inglese è una razza in grado di adattarsi a molte attività diverse, grazie alle sue caratteristiche ma anche alla sua spiccata intelligenza. Si tratta di un cane che è in grado di apprendere molto velocemente e quindi risulta molto portato anche per le attività di obbedienza e agility. Prima di procedere con i contro facci sapere con un rapido commento qui sotto quale di queste elencate è la tua caratteristica preferita. Ora procediamo con i contro di questo cane. Numero 1 Cura del mantello Il setter inglese è caratterizzato da un pelo folto e lucido che nel mantenersi tale richiede molta cura. È necessario spazzolarlo regolarmente per evitare la formazione di nodi e inoltre deve essere lavato e toilettato regolarmente, aspetto che può richiedere un impegno di tempo e denaro abbastanza significativo. Numero 2 Ha bisogno di fare attività fisica Come abbiamo detto in precedenza, questo cane è per sua natura molto attivo e intelligente, caratteristica che obbliga il padrone a fornirgli una giusta dose di stimoli sia fisici che mentali. Se non riceverà abbastanza attenzioni, il setter potrebbe diventare distruttivo, rovinando qualsiasi cosa gli capiti sotto il muso. Numero 3 Richiede un addestramento adeguato È vero che si tratta di un cane intelligente e che apprende velocemente, ma è anche vero che il setter è un cane particolarmente testardo. Ha bisogno di un addestramento specifico e coerente fin da cucciolo per evitare problemi comportamentali e per permettergli di crescere equilibrato e felice. Nel video di oggi hai scoperto tutti i pro e i contro sul setter inglese. Pensi di riuscire ad occuparti di questa razza? Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza, e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se hai imparato qualcosa di nuovo, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sul nostro canale dedicato al fantastico mondo dei cani. E se questo video ti è piaciuto, commenta scrivendo quale vuoi che sia un'altra razza da analizzare pro e contro nel prossimo video. Da Mondo Cani è tutto, ci vediamo al prossimo episodio, ciao! Grazie a tutti!